al campo comunale di casola va in scena la ventunesima giornata del campionato nazionale under 17 serie c girone c derby tra la juve sabbia e la paganese ospiti in campo con evangelista rullo inghilterra stellato perretti pollice petrucci bottone d'ambra cerrone e padolino a disposizione dell'allenatore sossio finestra guadagno conte sabatino sannino di palmarezzo de caro sepe e russo giù e sabbia in campo con esposito boccia itzo marrone annibale daniele massaro lando elefante scalera e fontanella a disposizione dell'allenatore giovanni macone todisco tartaglione cioffi vitale stoccoli in decicco grimaldi calise e pulcino sesto minuto juve sabbia in avanti ciccio scalera lotta in area di rigore di conquista palla il tocco lì dietro per elefante la conclusione incredibile palla al lato impatto importante di ciccio scalera sul match salta un avversario la sua conclusione con il mancino però è facile preda di evangelista 20 sul cronometro pericolosa la paganese il pallone arriva a cerrone la conclusione colpisce il palo a matteo esposito battuto minuto 34 si sblocca il match errore in disimpegno palla che arriva ad ambra la sua conclusione termina in fondo al sacco battuto matteo esposito 1 a 0 per la paganese 1 2 micidiale per i ragazzi di mister foresta padolino scappa sull'auto di sinistra il pallone di ritorno in area di rigore si accentra la conclusione è debole ma matteo esposito non riesce a bloccare il palone termina in fondo al sacco col montaggio passiamo al secondo tempo paganese in contropiede daniele ferma così il suo avversario per il signor domenico reggirolamo di avellino e rosso diretto e giuve sabbia in 10 si prende la responsabilità d'ambra carica il destro raso terra palo interno 3 a 0 paganese 33 sul cronometro palla dalla bandierina che attraversa l'area di rigore e pollice in tuffo a segnare il gol del 4 a 0 prova a rispondere un po la giuve sabbia il traversone al centro la deviazione palla che colpisce il palo giuve sabbia sfortunatissima azione che prosegue perde palla la giuve sabbia sulla tre quarti avanzata riparte il contropiede degli avversari il pallone termina a petrucci che riesce con un tocco sotto a beffare matteo esposito e a depositare in fondo al sacco il gol del 5 a 0 altro calcio d'angolo giornata da dimenticare per matteo esposito conte lo anticipa e finisce così il match 6 a 0 per la paganese una sconfitta dura per i ragazzi di mister macone da digerire una sconfitta che però deve subito far ripartire le respette prossima settimana al menti si gioca contro il gubbio